Da oggi una Cina nuova che mette al bando la sigaretta da ristoranti, uffici, trasporti pubblici. Una misura senza precedenti in uno dei paesi con il più alto consumo di tabacco al mondo. Multe di circa 30 euro per i trasgressori, una sorta di muro della vergogna con i nomi dei recidivi, verrà pubblicato sul sito internet del governo cinese.